L'artista e l'artista L'artista e l'artista L'artista e l'artista Un manifesto in forma grafica del suprematismo in cui egli vedeva il necessario principio costruttivo dell'arte astratta Per tre anni, dal 1922 fino alla fine del 1925, Lissinski in qualità di rappresentante L'artista e l'artista ufficiale dell'arte sovietica in Europa organizza esposizioni, tiene conferenze, scrive articoli e frequenta assiduamente architetti come Miss Van der Rohe, Walter Gropius, Hans Schmidt, Hannes Mayer e Le Corbusier In Germania collabora con il Bauhaus e in Olanda partecipa a fianco di Mondria e Ades Stil Instancabile lavoratore, opera come pittore, architetto, grafico, disegnatore di libri e fotografo sperimentale Inaugurata la Galleria Van Diemen di Berlino verso la metà dell'ottobre 1922 la prima esposizione estera d'arte sovietica segna per Lissinski anche l'inizio di una vicenda molto personale che rinsalderà i suoi legami con la Germania La storica dell'arte Sofie Kuppers decide, nonostante sia rimasta vedova da poco di visitare la mostra in corsa alla Galleria Van Diemen dove Lissinski era rappresentato in tre sezioni Capitò così che una sera d'ottobre alla società Kestner comparve un folto gruppo di artisti di avanguardia capeggiato da Kurt Schwitters Tra loro c'era anche Lissinski Schwitters mi mostrò un fascio di acquerelli erano proprio quelli che mi avevano tanto colpito alla mostra russa del 1922 L'attrazione è reciproca La giovane tedesca, un'esperta d'arte contemporanea, produce una forte impressione sul russo A così inizia una calda e vivace corrispondenza Ora Sofie è messa al corrente di tutti i dettagli della vita di Lissinski Segue le sue mostre, i suoi piani architettonici, i suoi progetti di libri, i suoi articoli e le sue conferenze Sa tutto anche della sua malattia La tubercolosi si era acutizzata ma lui non ne faceva una tragedia Le lettere inviate a Sofie sono più ironiche che tristi Svizzera, Locarno Ospedale La Carità Già lunedì Ieri le suore cantavano, meravigliosamente, sembrava di stare a teatro Non si sta poi così male qui, sono solo stufo di non far niente, di nuovo cieli scuri Fotopis Lissinski coniolta ermine Fotopis sull'impronta di Tsivopis, dipinto in russo Per disegnare i suoi lavori fotografici, eseguiti con o senza la macchina fotografica Le sue apri più importanti in questo campo sono basate sulla tecnologia e sulle tecniche del fotogramma Una natura morta fatta di lampadine, un paio di tenaglie, un cucchiaio e un manichino in negativo e in positivo L'artista gioca con la luce che mutevole, unica e difficile da controllare Consente di creare uno spazio, di rivelare una struttura, di rendere una sfumatura Ma dedicandosi alla fotografia così legata al fatto, alla realtà concreta Lissinski non si allontana dall'arte astratta Paradossalmente il fotogramma permise a Del sia di rimanere fedele ai principi dell'estetica dell'avanguardia Sia di liberarsi dal peso del realismo Verso la metà degli anni venti, Lissinski crea ritratti fotografici degli amici Kurt Schwitters e Hans Arp Impiegando il collage, l'esposizione multipla e il disegno L'autoritratto del 1924, il fotogramma Il costruttore, è una delle fotografie più famose del ventesimo secolo In un altro autoritratto, egli appare in camice e cuffia da degente, con uno sguardo intenso Insieme a una macchina per radiografie e a un compasso, la testa del quale coincide con una manopola dell'apparecchio Sto lasciando l'ospedale, un polmone è andato, ma l'altro c'è ancora E spero ancora di respirare, forse perfino di volare Costruzioni Per me l'arte accade quando meno la si aspetta Tento con tutte le forze di valutare, usare ogni aspetto, ogni possibilità del materiale Ma sono soddisfatto solo quando il risultato mi sorprende Quando tutto il mio organismo, non solo il cervello, sente che la strada scelta è quella giusta Se non credessi in una tale possibilità, lascerei perdere tutto e mi metterei a fare il calzolaio Il grattacielo orizzontale fu il suo primo tentativo di applicare l'idea di Proun in campo architettonico Tra tutte le composizioni Proun, la numero 88, creata nel 1923, è quella più vicina a un grattacielo Nei due anni seguenti esegue una serie di disegni e progetti ben dettagliati per i suoi grattacieli Che l'idea fosse rifiutare la verticalità del grattacielo americano O ribadire la sua presa di posizione in favore del nuovo Egli decise di costruire un Proun reale che facesse da contrapeso la città vecchia Fatta di strade strette e congestionate In tutti i casi, l'idea del grattacielo orizzontale era perfettamente sensata E quella che era stata pensata come una stazione di transito tra pittura e architettura Fu sul punto di essere realizzata Lissitzky non progettò mai edifici destinati a rimanere sulla carta Il grattacielo orizzontale è il suo progetto architettonico più conosciuto Lo elaborò fino all'ultimo chiodo, in tutti i particolari Defini l'intero aspetto tecnico del grattacielo Che doveva sorgere all'incrocio tra l'anello A e un boulevard Si preoccupò ad esempio di evitare che l'edificio impedisse la vista del Cremlino O interferisse con la circolazione dei tram Mise tutto per iscritto Descrisse tutto in un articolo pubblicato su Izvestia Molto realistico, era certo al 100% che sarebbe stato costruito Nel 1925 Lissitzky torna in Russia per insegnare alla facoltà di architettura E come sempre lavora intensamente come insegnante, curatore di pubblicazioni artistiche, disegnatore di libri e riviste e designer di mobili Progetta inoltre esposizioni sovietiche internazionali a Mosca, Berlino, Colonia, Dresda, Stoccarda, Parigi, New York e Lipsia Le grandi mostre internazionali di quadri assomigliano a uno zoo Dove il visitatore è assalito da migliaia di fiere diverse, nello stesso tempo Nella mia sala d'esposizione gli oggetti non dovrebbero attaccare tutti insieme il visitatore Se un tempo si favoriva una certa passività nel visitatore che passava davanti a muri pieni di dipinti Il presente progetto si propone di stimolare la sua attività Questo dovrebbe essere l'oggetto della mostra Mosca, seconda metà degli anni venti Come sempre Ela è al lavoro, lui e Sofie devono provvedere alle necessità della famiglia Vivono come tutti in coabitazione Un corridoio buio, stipato di valigie e cianfrusaglie Una cucina piena di tavoli e fornelli, dalla cui finestra aperta entra il frastuono dei tram Questa esperienza di vita in comune esercitò indubbiamente una profonda influenza Sul successivo progetto della stanza modello Provista di mobili incassati e sposta alle mostre svoltesi a Dresda e Lipsia nel 1930 Si entra nell'appartamento come nella cabina di una nave o nello scompartimento di un treno Portando con sé solo qualche capo di biancheria e pochi effetti personali A prescindere dalla maggior convenienza, questa nuova tipologia avrà un'immensa importanza sociale ed educativa Perché ci libererà dal senso di proprietà personale Lissinsky progettò nei dettagli gli spazi abitativi, celle, della casa comune progettata da Ginzburg E ideò mobili polifunzionali Oggi la sua sedia convertibile è diventata un classico del design Ma non era il solo ad avere idee nuove Nel corso dei cinque anni precedenti aveva elaborato un nuovo metodo di insegnamento della composizione spaziale architettonica Come professore de Bruch-de-Mass, impostò l'attività didattica in modo da collegare la progettazione degli spazi abitativi al design dei mobili E tentò di sviluppare un dipartimento di design di interni destinato a formare i primi designer sovietici Un'altra idea in anticipo di decenni sui tempi L'artista e inventore La forma senza lo spazio non è niente La forma indipendentemente dal materiale non è niente Il materiale è la forma data nella costruzione Creando una nuova forma, il proun crea un nuovo materiale Se non la si può realizzare in ferro, occorre trasformare il ferro in acciaio O in qualcosa che ancora non esiste o non è stato consacrato dall'uso L'interesse dei progetti architettonici di Lissinsky deriva dalla loro posizione al confine tra architettura e pittura Egli riteneva che l'architettura fosse la più importante delle arti In considerazione del suo valore sociale e della sua utilità concreta Con ciò non si limitava a rendere il dovuto omaggio alla sua formazione di architetto L'architettura gli offriva l'opportunità di sintetizzare tutte le sue diverse esperienze creative E soprattutto di creare qualcosa di appropriato alla nuova epoca e al nuovo modo di vita Era questa l'idea che stava alla base del suo grattacielo orizzontale Il progetto architettonico più importante e di tutti i suoi lavori successivi La delineazione dell'idea architettonica assomiglia all'orchestrazione delle parti strumentali in musica Ma se l'orchestrazione, le note diventano un'arte per l'arte Bei simboli, al di là di come i segni suoneranno, a che servono? La sua architettura è assolutamente reale, concreta Anche se non sarebbe mai stata realizzata Tuttavia non era fatta per rimanere sulla carta Si osservi come reagì Quando infine si rese conto che i materiali da costruzione E le tecnologie con cui aveva acquisito familiarità in Occidente Non erano reperibili in Russia Passò oltre Progettò esposizioni Che erano a loro volta una forma di architettura Ma che potevano essere realizzate in breve tempo E in questo campo ottenne un grande successo Fece architettura anche quando progettò le scene di un lavoro teatrale di Majorhold Innanzitutto sapeva che sarebbero state costruite subito E non erano un mero sfondo Trasformò l'interno del teatro Trasferì il palcoscenico al centro Creando un auditorium in cui i membri del pubblico Da semplici spettatori diventavano partecipanti attivi Ma alla fine anche questi progetti rimasero irrealizzati E così smise di lavorare per il teatro E quando collaborò a Urs in costruzione Si metteva a fare ritagli, incollaggi, fotomontaggi Finché nel giro di due o tre settimane Tutto al più di un mese Non aveva tra le mani una rivista vera, reale Semplicemente non tollerava l'idea che un lavoro rimanesse incompiuto Il diritto che l'artista ha di creare Non significa fare manifesti o qualsiasi altra cosa Che sia ordinata e giudicata dalla grande indifferenza La grande indifferenza Ebra indipendente e membro dell'avanguardia proscritta Trascorse gran parte della sua vita all'estero I suoi amici, i suoi compagni di lavoro e di creatività vivevano là Della sua cerchia facevano parte molti perseguitati Era un motivo più che sufficiente per finire in un campo di rieducazione del Gulag Ma per quelli che detenevano il potere Lissinsky non era un essere umano né un artista Bensì un elemento di valore Una rotella dell'ingranaggio della macchina ideologica Le sue capacità così diversificate lo rendevano troppo utile E così i punti deboli della sua biografia furono ignorati Almeno per il momento E l'uomo, già condannato dalla malattia, potesse guidare a vivere Quando seppe di essere stato destinato a girare cinegiornali Il grande documentarista Ziga Vertov disse una cosa bellissima Certo, un pianoforte può anche essere usato come tavolo da cucina Disse Ma non è questo il suo uso normale La stessa cosa accade a Lissinsky Lo si rileva dai contratti che dalla fine degli anni 20 agli anni 30 Lui, il famoso designer che solo qualche anno prima Aveva progettato grandiose fiere internazionali Firmò per etichette di scatole di fiammiferi Per la pubblicità di un'industria di liquori Per padiglioni secondari della fiera dell'agricoltura di tutta l'Unione Quindi sì, anche lui ebbe la sua parte di guai E di certo non deve essere giudicato per quello che fece Non bisogna dimenticare che era un uomo molto malato E che lo fu per decenni Uno dei suoi più stretti colleghi della redazione di Urs in Costruzione Una volta mi disse che Lissinsky aveva un tubo d'argento nella schiena Che drenava il fluido che si formava nel polmone superstite Nel 1940 il maggiore dei figli di Sofie decise di far ritorno nel suo paese natale, la Germania La strana pace seguita alla firma del patto Molotov von Ribbentrop Suscitò un forte allarme Hitler divenne per la propaganda l'alleato più fedele di Stalin Nonché il suo compagno di idee Kurt Kuppers ottenne senza difficoltà e vissi necessario ad uscire dal paese E partì in pace Ma poco dopo, in quanto tedesco che aveva tradito la sua madrepatria per la Russia E che per giunta aveva come patrigno un ebreo Fu internato nel campo di concentramento di Saxonshausen L'alleanza tra i due tiranni ebbe fine il 22 giugno Il 30 dicembre, con i tedeschi ormai alle porte di Mosca Il secondo figlio di Sofie, Hans Kuppers Fu inviato a scavare trincee e non fece più ritorno Arrestato come spia del nemico fu trasferito in un campo di lavoro Questa volta a sovietico Quello stesso freddissimo giorno Elisinski morì di tubercolosi nella sua residenza estiva Nascosta tra i boschi Aveva 52 anni Dopo un periodo di grande fervore e attività Sul mondo è scesa una quiete mortale Ma sono sicuro che la nostra vitalità e il nostro istinto di conservazione Metteranno di nuovo tutte le nostre forze in azione Quando ciò accadrà, non solo i nostri successi Ma anche i nostri errori saranno profiqui Per gli artisti consapevoli di tutte le nazioni Così che cosa intendiamo quando parliamo di eredità? Di qualsiasi tipo di eredità, di denaro forse? Non conta quanto ti è stato lasciato o da chi Ma che cosa ne farai? Elisinski ha lasciato un'immensa eredità Ha lavorato in molti campi artistici La sua opera è stata rivoluzionaria Molte delle cose che ha fatto anticipano la pop art Cose diverse Che diventeranno una tendenza artistica solo 20 o 30 anni dopo la sua morte Le sue prime mostre Che erano ancora mostre d'arte Prive di qualsiasi connotazione sociopolitica Dove egli gioca con i Proun Produce i suoi Proun Fino al 1923 Anticipano l'arte concettuale Che solo molto più tardi diventerà la tendenza centrale dell'arte contemporanea Altri aspetti della sua opera avrebbero contribuito allo sviluppo dell'arte cinematografica Capì molte cose prima degli altri È assolutamente ovvio che l'idea dei Proun L'idea della semplificazione Di guardare una cosa da tutti i lati Come diceva lui Poteva essere pienamente realizzata solo con la tecnologia elettronica Della computer graphics In altre parole fece cose che non solo erano suscettibili di sviluppo Ma che solo oggi è possibile realizzare e comprendere pienamente Non potrebbero essere riuscite oggi Che potrebbero essere più lunghi e più chiaro E vedete Questo film è stato creato grazie al sostegno finanziario del Centro Elisinski di Novosibirx E dell'assistenza tecnica della Fondazione Sociale Municipale Yuri Kondratyukov di Novosibirx Si ringraziano Alexander Kandzadikas e Sergei e Tamara Lissinski Che hanno messo a nostra disposizione documenti e altri materiali Grazie a tutti